Siamo qui per comunicare un'importante novità ed opportunità per i giovani del territorio di Baronissi e della Valle dell'Irno. Quest'opportunità si configura nella nascita tramite l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore, che a livello regionale farà avviare tre corsi di alta specializzazione. La bella notizia è che uno di questi corsi a livello regionale si terrà proprio qui, a pochi metri da noi, a Baronissi, nella sede della Schiss Consulting SRL, che è una realtà del territorio che si occupa di formazione. Questi corsi sono corsi destinati a giovani diplomati che non hanno continuato il percorso universitario, ma che vogliono specializzarsi per introdursi velocemente nel mondo del lavoro. Il corso alla durata di due anni è gratuito per gli utenti ed è caratterizzato da una importante partecipazione delle aziende che ospiteranno per circa il 45% delle ore il training on the job. Il dato importante e fondamentale è che questi giovani, nel 2022, per l'80-90% dei casi, sono stati a fine corso direttamente introdotti presso queste aziende che li hanno ospitati. Quindi c'è una forte finalizzazione in percentuale tra chi sceglie di formarsi. È possibile candidarsi entro le ore 13 del 30 settembre sul sito itsacademy.it. Da questo punto di vista diciamo che tra il privato e l'entità regionale c'è stata una partecipazione, un percorso. Diciamo che oggi questo risultato e questo corso che si avvia qui su Baronissi non cade dal cielo, ma sicuramente c'è stato un percorso che ha visto il privato, la regione coinvolti in questa realizzazione di questo corso.